Primo round Primo Ah tu mi puoi di me da guarda bro Ma dai, questi stanno già 3.000 sotto. Un giocatore ha lasciato la sessione. Guarda ancora che si è uscito. Un giocatore ha lasciato la sessione. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il nuovo tuo potere si è unito alla sessione. Un giocatore ha lasciato la sessione. Un giocatore si è unito alla sessione. Un giocatore si è un giocatore. 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 Un giocatore si è un giocatore si è un giocatore. Un giocatore si è un giocatore. Che vergogna. un giocatore si è un giocatore. un giocatore si è un giocatore. un giocatore si è un giocatore. un giocatore si è un giocatore.